Nella seconda giornata del Moselle Open, Simone Bolelli, proveniente dalle qualificazioni, esce sconfitto dalla maratona, la seconda in due giorni, contro Marcel Granollers, che si impone per 7 giugno 3-6-7-6. Entrambi i tennisti tengono piuttosto agevolmente il servizio nei primi game. Nel sesto gioco Bolelli ha un passaggio a vuoto, le variazioni di Granollers lo mettono in difficoltà, e concede tre palle e breac consecutive. Il servizio viene incontro all'azzurro, e con due prime vincenti e una bella accelerazione di dritto cancella i tre breac point e porta a casa il game vincendo 5 punti consecutivi. Nell'ottavo game liberi così procura un'altra chance di breac con un dritto che passa Bolelli, poiché è troppo lontano dalla rete, che però spreca mandando fuori la risposta su una seconda di servizio di Simone. Granollers conquista molti punti con la smorzata e sale 5 aprile senza offrire alcuna palla breac. Il set si decide al tie breac senza ulteriori colpi di scena, se non una piccola discussione dello spagnolo con il giudice di sedia sul verdetto dell'occhio di Falco che assegna l'ace a Bolelli. Il primo mini breac è in favore di Granollers, che va a segno con un bel passante di dritto in corsa. L'azzurro recupera immediatamente lo svantaggio, e si procura un set point, ma il tennista iberico lo cancella con un ace, ripetendosi nel punto successivo e conquistando quindi un set point. Simone si salva con uno smash, ma non può nulla sulla volei dell'avversario che torna di nuovo a un punto dal set. L'azzurro non molla, gioca con aggressività, e con una volei di rovescio aggancia Granollers sull'otto pari. Liberico spreca un terzo set point, ma sfrutta la quarta opportunità con una prima di servizio vincente, chiudendo il tie breac per 11 punti a 9.